La quattordicesima edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato l'eccellenza del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli ambiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta dagli anchor di Le Fonti, punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Allora, andiamo avanti con la categoria Consulenza e andiamo a premiare l'eccellenza dell'anno Innovazione e Leadership Risarcimento del Danno. Questo premio va a Studio MG. Allora, leggiamo la motivazione, per essere un'eccellenza nella gestione dei danni, per supportare costantemente persone, imprese e pubbliche amministrazioni, perché possano ottenere il giusto risarcimento per i danni subiti, per la competenza, la capacità di trattativa e transazione e l'aggiornamento. Studio MG, benvenuti e complimenti per questo premio. Grazie per gli applausi. Grazie, grazie. Diamo il nostro caloroso benvenuto a Umberto Coccia, amministratore delegato dello Studio MG, team di consulenti esperti nel risarcimento del danno. Una delle vostre mission è aiutare gli agenti a trasformare i sinistri in occasioni di vendita. Ci spiegherebbe in cosa consiste questa attività e perché vi differenzia dai competitor. Buonasera intanto e grazie per la domanda. Per spiegarvi la nostra proposta unica di valore nei confronti degli intermediari assicurativi, due piccole premesse. La prima è che conosciamo il grande valore degli intermediari assicurativi nel nostro tessuto sociale, in quanto mettono al riparo persone e aziende dalle conseguenze a volte nefaste di un evento avverso. La seconda è che conosciamo i numeri che posizionano l'Italia in una classifica europea in coda in quanto a penetrazione assicurativa. In questo contesto ci siamo resi conto che chi rimane vittima di un evento avverso al termine della sua esperienza non è più fatalista e abbandona quella credenza sbagliata e limitante del tanto a me non capita niente, non è successo niente fino a ieri, cosa vuoi che capiti domani. Ecco e al termine dell'esperienza con noi i nostri clienti vengono invitati a riflettere sulle principali aree di rischio attraverso un puntuale questionario e ritornano con questa nuova consapevolezza dal loro assicuratore per costruire o migliorare il proprio airbag assicurativo e in questo contesto MG gli intermediari assicurativi diventano non più in antitesi, non sono più in antitesi, bensì alleati l'uno al fianco dell'altro nel miglior interesse del cliente danneggiato creando una sorta di circolo virtuoso e perpetuo in cui tutti gli attori ne tragano beneficio e vantaggio. MG gli assicuratori ma prima di tutto gli assicurati. Questa sera per lo studio MG è una serata molto importante perché vi è stato riconosciuto un premio, le fonti, come eccellenza dell'anno, innovazione e leadership, risarcimento del danno. Come commenta questo vostro successo e come avete consolidato la vostra posizione nel campo? Beh innanzitutto certamente per noi una serata memorabile e ringraziamo le fonti per averci insegnito di questo importantissimo riconoscimento che per noi rappresenta certamente oggi il premio che ci portiamo a casa per l'impegno e la passione che in questi anni abbiamo profuso in MG per arrivare a tanto e contemporaneamente siamo coscienti che non è un punto di approdo bensì una importantissima tappa del nostro cammino che ci conferma che la direzione intrapresa è quella giusta e che funge da propellente per incedere il nostro percorso. Cosa abbiamo fatto di particolare in questi anni? Beh intanto siamo la prima azienda in Italia che si occupa di risarcimento danni ad essere società benefit e questo significa che oltre a perseguire benefici di lucro ci impegniamo a raggiungere benefici comuni per tutti gli stakeholders e per la collettività dei territori in cui noi operiamo. Abbiamo chiesto ad un ente terzo di certificare il nostro servizio come servizio sicuro e hanno verificato la correttezza dei contratti che noi sottoscriviamo con i nostri clienti, la validità della garanzia unica nel nostro settore, una garanzia di risultato che offremmo i nostri clienti e infine verificano costantemente la veridicità delle testimonianze che i nostri clienti ci rilasciano al termine della nostra esperienza. In più nel corso degli anni abbiamo messo a fuoco e migliorato costantemente processi e procedure dove nell'ambito di erogazione del nostro servizio nulla viene lasciato al caso, dove il caso non ha nulla a che vedere con chi subisce gravi conseguenze a seguito di un evento lesivo. I risultati ottenuti in questi anni sono stati ottimi e incoraggianti, ma non bisogna mai fermarsi. Come pensate di aumentare il vostro prestigio e le vostre competenze nel settore del risarcimento d'anni? Beh, questa affermazione è quanto mai valida nell'attuale contesto storico. Le rendite di posizione non esistono più e oggi fermarsi equivale ad arretrare. Quindi il nostro impegno sarà quello di continuare a ricercare l'eccellenza nel nostro lavoro all'insegno dell'innovazione e della sostenibilità. Per dirne qualcuna abbiamo già implementato, efficientato alcuni dei nostri processi attraverso l'intelligenza artificiale generativa. Continueremo a migliorare i touch point con i nostri clienti anche in ottica digital. Amplieremo la nostra capacità di divulgazione di informazioni, quindi oltre a presidiare i canali social come Facebook e LinkedIn, il nostro blog, il nostro house organ analogico e fisico come Crash, redigeremo una rubrica di podcast su Spotify e su YouTube. Ci impegneremo, visto che siamo anche società benefit, nel portare avanti una campagna di sensibilizzazione per i bambini, per il trasporto sicuro dei bimbi a bordo delle auto. E non da ultimo continueremo a frequentare business community come le fonti perché siamo profondamente convinti che per portare innovazione nel nostro settore bisogna guardare cosa accade negli altri.